Bentornati a tutti ragazzi dell'Eccelso di Dima Channel in questo nuovissimo video, se vedete con quei capelli bagnati mi sono appena fatto la doccia, sono molto sexy e attraente quest'oggi Siamo ancora, sto registrando questo video, non so quando lo vedrete perché non sono le pagelle, che non so se registrerò, se registrerò, vabbè registrerò o farò un video a riguardo Ma sono, è una nuova serie che vorrei fare, ma insomma serie così per modo di dire, perché è una tipologia di video un po' diversa Ovvero le mie 5 unpopular opinion sul Cagliari, e non so se possa essere una cosa settimanale perché poi le cose si andrebbero a ripetere Però è una cosa da fare una volta al mese, magari sarebbe carina da fare, anche per confrontarci, magari le mie idee che come sapete, forse anche enfatizzando sempre molti concetti E queste sono sempre le premesse che faccio, i concetti che porto io sono sempre molto enfatizzati per mettere in risalto quello che è il problema Che poi puntualmente, grazie alla mia eccelsa competenza, viene mostrato Allora, io oggi con il mio solito post-it, non ci sono le pagelle, ma c'è questo bellissimo unpopular Non so se le pagelle appunto voi le avrete viste, io penso questo video di caricarlo per martedì Quindi se non avete visto le pagelle vuol dire che non le ho fatte perché non avevo voglia visto che mi cadono le palle Ok? Ok? Posso permettervelo? Posso? Grazie, 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 grazie Allora, primo, Joe Pedro è un danno Ovviamente ragazzi, queste cinque unpopular opinion saranno estremamente provocatorie Questo è chiaro, per creare dibattito nei commenti Quindi lasciate un commento a fine video e commentatemi le varie unpopular opinion, quelle che vi hanno magari dato più fastidio Joe Pedro è un danno, qua molti si triggereranno Allora, io riconosco che Joe Pedro non possa essere definito scarso un giocatore che l'anno scorso fa tutti quei gol E che quest'anno comunque anche qualche volta la patata bollente ce l'ha tolta lui Le castagne del fuoco ce l'ha tolta lui, come dico io Sicuramente un giocatore importante, sta diventando una barriera Anche una barriera Una bandiera Il problema è che Joe Pedro ostacola il progresso nel gioco del Cagliari E adesso vi spiego il perché Joe Pedro è un giocatore estremamente lento Non è il tipico brasiliano, veloce, rapido, brevilineo Molto lento, molto macchinoso Non ha questa gran tecnica Cioè, è abbastanza tecnico Ma non ha questa tecnica incredibile da sopperire le mancanze dal punto di vista della corsa E anche dal punto di vista magari dell'aggressività Anche dal punto di vista fisico Nel senso, Joe Pedro sì, fisicamente non è piccolo Ma non è neanche questo bestione Quindi una via di mezzo un po' né carne né pesce Detto ciò, sicuramente Io vi dico qua una cosa E qua è un'altra provocazione totale Joe Pedro io lo vedo molto stile Pippo Inzaghi A me sembra che i gol che fa Joe Pedro Sono dei gol veramente Che lui si va a cercare Questo è bravissimo sicuramente Ma a me non sembra che ceda di bellezza Joe Pedro Non è mai ceduto di bellezza Se penso ai più belli gol di Joe Pedro Ne penso a 2-3 Ne penso a quello con la spalla di qualche anno fa Penso a quello contro la Roma Forse l'aveva fatto Quello col pallonetto Adesso non mi ricordo più se lo fece contro la Roma O contro qualche altra grande squadra Ma l'aveva fatto contro una grande squadra E poi infatti quella partita l'avevamo persa mi pare Comunque non è che abbia fatto tutti questi gran gol La maggior parte sono dei gol abbastanza di cattiveria Che non sono dei gol meno importanti degli altri Sia chiaro Per me è dannoso Perché l'azione la rallenta incredibilmente E poi Quei gol che fa Non è Cioè Io sono sicuro che ci sia Un giocatore Al posto di Joe Pedro Prendibile Che renda il gioco più dinamico E che i gol che fa Joe Pedro Magari li riesce a fare anche lui Non so A me Joe Pedro ragazzi ve l'ho sempre detto Non mi convince E ve l'ho detto anche l'anno scorso dopo i 19 gol Sicuramente una bandiera Sicuramente un giocatore a cui voglio un bene dell'anima Che se dovesse venire a Torino Di nuovo infatti come l'anno scorso ho fatto la foto con lui Perché è un giocatore a cui io sono molto molto legato E per questo sono anche molto critico nei suoi confronti Ma non è un giocatore che mi piace Non mi piacerà mai Rallenta il gioco Rallenta il gioco Aggiungo un'altra cosa Joe Pedro è stato il male di Di Francesco Di Francesco lui vuole da giocare con il 4-3-3 Per colpa del signor Del signor Joe Pedro non può giocare a questo modulo Perché Joe Pedro non è un ala È lento È macchinoso E l'ala non la può fare Per capire questa E io l'ho detto da subito Per capire questa cosa Di Francesco ci ha impiegato due partite Meno male che ci ha impiegato due partite Non si è interessardito Meno male Però abbiamo perso punti Perché con la Lazio i punti si potevano fare Con la Lazio Quante piccole squadre hanno fatto punti Quante 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 Vengo a battere cassa E qua faremo anche un altro video Quanti punti ha buttato via il Cagliari E quanti ne poteva fare Impostando la partita in modo diverso E se abbiamo veramente incontrato Delle squadre imbattibili Eh Io farò un video a riguardo Molto articolato Lo farò Lo farò Lo farò Lo farò Ok Detto ciò Poi Un'altra cosa Che qua dico E Qua penso forse di trovare Non so in quale troverò più o meno consensi Per me Cherry Attualmente È meglio di Pavoletti E meriterebbe di giocare titolare Io Prossima partita Contro il Parma E Non mi ricordo Cherry Deve Giocare Titolare Il Cherry Che è entrato oggi Che è entrato nelle scorse partite Che ha giocato in Coppa Italia È il miglior Cherry Che io abbia mai visto E merita Una maglia da titolare Se il Pavoletti visto È quello che abbiamo visto oggi Allora io Pavoletti Lo so E sono legato anch'io C'ho anche la sua maglietta Però bisogna essere obiettivi Pavoletti È fuori Condizione Basta Questa idolatria Verso Pavoletti Se Rogue Un domani Rientrasse E dovesse far cagare Io sarò il primo A dirvi Rogue Fa cagare Deve stare fuori Ok Se Domani Faragò Dovesse essere il più forte Io sarò il primo A dirvi Faragò È fortissimo Come ho fatto con Lico Giannis Per me Lico Giannis Ad oggi È tra i 5 più forti Della squadra È un muro difensivo È un muro difensivo Non sbaglia più nulla Ha un piede Che Che mette delle palle perfette Non sta sbagliando più nulla Lico Giannis È qua la gufo Qua la voglio gufare Qua la voglio gufare Cherry Attualmente Deve giocare Perché Pavoletti Per due motivi Primo Cherry Un exploit Incredibile Qua lo dico Qua lo dico Questa è la lana dell'esplosione di Cherry Se si crede in lui Io qua voglio fare Voglio sbilanciarmi E secondo Pavoletti Non è in forme Per questo calcio Di Di Francesco Non è adatto Non è Adatto Io In realtà Non capisco neanche il perché Le cose che ha fatto Cherry In 20 minuti Oggi pomeriggio Cioè oggi a pranzo Pavoletti In 70 minuti Non si è riuscito a farle E questo che è più grave Secondo me Al di là che poi entrambi Sono mangiati un gol a testa Clamorosi Ma al di là di questo Al di là di questo Quello ci può stare Ma è il lavoro che fai Però la cosa che non mi capacito È che Fisicamente sono uguali Quindi io anche quando dico Pavoletti non è andato Il gioco di Di Francesco Sì e no Perché se poi Cherry Rientra E ti tiene tutti i palloni Fa tutte le sponde benissimo Voi Pavoletti Gli avete fatto L'avete visto Far delle sponde L'avete visto Far delle sponde Anche io ricordi Quasi nessuno Quasi nessuna L'avete visto Prendere la palla Come ha fatto Cherry E saltare l'uomo No Ma io adesso Vabbè Sapete che Simone Lo amo L'odoro Però io ho un'opportunità Se Simone ancora Non è al top Io la prossima partita Lancia sto cazzo di Cherry Buttalo nella mischia Buttalo nella mischia Buttalo nella mischia Poi Qua Ragionamento su Cragno E qua penso oggi Di prendere meno consensi Di tutti Di tutti Quindi siamo alla fine Di una partita Dove Cragno È risultato Decisivo In entrambe Le situazioni Nel senso che Allora Non ci fosse stato Cragno Nel primo tempo Probabilmente Staremmo parlando Di una partita Che nel primo tempo Sarebbe già stata chiusa Quindi Quello che andrò a dire adesso Non avrebbe neanche senso Però io Non posso parlare di sedi Ma Per me Sul 1-0 I due gol I tre in realtà Ma al terzo Non gli voglio dare la colpa Nel senso Se gli hanno detto di salire Anche se io non sarei salito Perché mancavano ancora tre minuti Ma tolto questo I due gol Per me sono colpa Colpa di Cragno Io ovviamente Non sto dicendo Abbiamo perso Per colpa di Cragno Non ho detto assolutamente Questo Cragno poteva Poteva causare Altri quattro gol E non sarebbe stata colpa sua Perché Con tutto quel che ha parlato Nel primo tempo Non potrei mai dire Una cosa del genere Ok Però I due gol Sono colpa sua Per me Allora Nel primo Respinge Alla benvenga E non chiama la palla Cragno Stacazzo Di difesa Guidala Se la palla è tua Urla mia E non si devono Permettere Il primo Che prova a prenderla Al posto tuo Lo prendi a bastonate Devi fare così Come faceva Olsen L'anno scorso Come faceva Olsen L'anno scorso Intanto non so se vi ho letto Il titolo della terza Unpopular opinion Ma è meglio Olsen Di Cragno Meglio Olsen Di Cragno Perché Cragno Oggi Ha salvato il risultato Questo non sto dicendo Che è colpa sua Della sconfitta Ma poi La seconda Secondo gol È una cappella Per me clamorosa Tra clavan e Cragno Il primo È una respinta sbagliata Perché non la chiama La difesa È gestita male Perché questi buchi difensivi I soldi Sono gli stessi Che c'erano con Olsen Con Olsen Non c'erano questi buchi Quindi non inventiamo balle Con Olsen Non c'erano E quando c'erano Olsen Mi ricordo che faceva Delle urla Imprecava Non so in quale lingua Veramente Si incazzava Una bestia Robin ti amo Robin ti amo Robin ti amo Quindi Olsen Poi Tiri dalla distanza Cragno Ha dei deficit Io preferisco Olsen a Cragno Meglio Olsen a Cragno Meglio Olsen di Cragno Lo so che è stupido Parlare di un portiere Che non abbiamo più Che della scorsa stagione Ma a me manca Sono nostalgico Posso Qualcuno si indigna Qualcuno si indigna Come al solito Spero di no Spero di no Spero di no Non voglio mancare Non voglio Nuocere a nessuno Poi Zappa Zappa e Nandez Quarta Un po' per l'oropinio Quarta Quarta Zappa e Nandez Non possono fare Gli esterni alti Io questo L'ho detto Di Nandez Anche quando Fece la partita Col Torino Che fece una partita Stratosferica Nandez Non è Un esterno Alto Non ha il passo Non è brevili Allora Nandez È velocissimo Come mezzala Perché corre di continua È veloce Ma no Non ha il passo Per fare Cioè non ha quella velocità Che hanno una Se sottile Per fare Per fare L'esterno di attacco Non ce l'ha Non ce l'ha Oggi è entrata Ha fatto l'esterno di centrocampo Non ne parliamo Ma Quando gioca più alto Che forse È ancora più accettabile Non lo può fare Non lo può fare Lo devi Mettere Lo devi Mettere In Mediana Con Rog Perché 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 Te lo devo spiegare Perché Marine Anche oggi Ha fatto una partita Da fantasma È un essere Abominevole Non deve Giocare Ok Non è che perché La scorsa partita Ha giocato bene Adesso Marine Non sa giocare Lasciamogli il tempo Anche lui di ambientarsi Diamogli il diritto Di ambientarsi Difendiamo Marine Teniamolo fuori Ok No perché si deve Anche ambientare lui Non puoi fargli fare Tutte queste partite A Marine Senza dargli mai Un pizzico di riposo Ha sempre giocato Marine Ha sempre giocato Marine Facendo quasi sempre pena Devi dargli il tempo Di ambientarsi Più tu lo mandi così In queste partite brutte Così Ma metti un Oliva Che fa più filtro Metti un Nandez Slim mediana con Rogue Sarebbe stato molto Ma molto molto meglio Ok Ok Zappa Zappa Oggi non ha toccato la palla Col Verona Puoi farlo Con l'Inter No Non puoi mettermi Uno Zappa Che spinge Sulla difesa 3 Dell'Inter Cioè ci vuole Un qualcuno Di un po' più pericoloso Zappa Con tutto il Zappone Lo sai che tu Sei forse stato Il primo Dei nuovi acquisti Scusate Dopo CR Sottil Ad essere entrato Nella mia personale Nel mio personale Pantheon Sotto le mie feci Quindi Quindi diciamo Sei un privilegiato Però Non Fatemelo vedere Terzino alto Cioè Terzino E Ala Non me lo fate vedere Ala Il suo ruolo è terzino Che si fa le sgroppate Avanti e dietro Non è Ala Perché Ve lo spiego Non è rapido Non è rapido Nel breve È velocissimo Nel lungo Più o meno come Nandez Ma non è neanche L'esempio giusto Quindi Poi è grosso fisicamente Quindi Un'Ala così grossa fisicamente Non si è mai vista Non so se vogliamo reinventare il calcio adesso Ma non abbiamo neanche tempo per farlo Quindi No a Zappala No a Nandezala Quinto Ed ultimo E quinto ed ultimo A Popolo Orpino Che forse è quella su cui Troverò più consensi Perché non è proprio della partita di oggi E non sono riflessioni Estremamente attuali Cioè no Si sono attuali Ma non è proprio della partita Tramoni Titolare Io mi chiedo Scusami Caro Di Francesco Tu togli Sottile Io te lo potevo Forse Concedere Ma all'ottantesimo Non al sessantesimo Come al sessantacinqueso Come hai combinato tu Quindi Te lo potevo forse concedere Per tramoni Quindi Il quinto A Popolo Orpino È tramoni 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 Vivo al tramonismo Tramoni 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 Titolare Assolutamente Sì Quindi Tramoni Titolare Perché è un calciatore Estremamente interessante Estremamente Nostro Estremamente Proletà Ecco Lui è il proletario Per eccellenza E il proletario Per eccellenza Io voglio vedere Sto tramoni Titolare Quale dico E quale nego Se una Se quando Un asse infortunato Cioè al covid Tramoni non gioca Ma mi spiegate Quale fiducia Gli diamo a questi giovani Tramoni ha dimostrato Di essere pronto L'ha dimostrato In Coppa Italia Quando subentrato Ha sempre giocato benissimo Bisogna dargli La possibilità Di Francesco Bisogna dargli Io Inizio a Dubitare un po' Di Di Francesco Delle sue capacità Ma detto ciò Vicino Per sempre Al legionario Di Francesco Sperando che guidi La truppa Al meglio possibile Quindi Queste erano le mie Cinque Le mie cinque Un po' Il video è durato Un po' Però mi faccia Il piacere Di scorrere un po' Di calcio Farò un'analisi Al campionato Delle partite Che abbiamo fatto Prossimamente Penso Magari giovedì O venerdì Non so se Magari giochiamo di sabato Allora poi Dovrò fare il pre partita Magari Però non lo so Vediamo Vediamo Non mi ricordo Neanche contro Chi giochiamo Ah sì Contro Vabbè Contro Il Parma Mi sembra Quindi Del Celso Mi mando un bacione Mi raccomando Fatemi sapere qua sotto Cosa ne sapete Cosa ne Cosa ne Pensate Di queste Unpopular opinion Molto 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 provocanti Molto Remunerative Nella vostra Per la vostra mente Ovviamente Quindi Io vi mando Un bacione accademico E noi ci vediamo Un prossimo video Ciao ragazzi Grazie mille per la visione Grazie mille per la visione